... Approfondiamo adesso gli altri personaggi del nostro originalissimo presepio. Abbiamo già visto Sganapino il pastorello. Fagiolina invece, sempre alle prese con dei legni. È un bravissimo boscaiolo. Insomma, è andato a Bacchetti per portargli alla capanna e permettere così alla famigliola di scaldarsi un pochino. L'Isabella invece porta un cesto pieno di buone meline appena colte dalle sue candide manine. Alla vista del bambinello alza le mani e fa uno strillo. Che maravaglia! È la meraviglia, altra figura del presepe tradizionale. Poco distante, non abbiate paura, è ormai vicino. Ci sta pure un assassino. È Brighella Brighelone, un poco di buono, un gran ladrone. Ma anche lui, davanti all'altissimo, si inginocchia e non può fare a meno di pentirsi tanto battendosi in seno. Grazie. 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 Grazie.